Ben trovati, nuovo appuntamento con l'ospite, questa è una puntata dedicata alla politica con i riflettori che sono accesi fondamentalmente sul comune di Ribera, comune che giusto quest'anno ha visto insediarsi una nuova amministrazione comunale, quella guidata da Matteo Ruvolo dopo dieci anni di guida da parte di Carmelo Pace. Ed è proprio Carmelo Pace l'ospite di questa puntata, grazie per aver accettato l'invito. E intanto che fa il sindaco Pace dopo dieci anni intensi, sicuramente vissuti in prima linea tutti i giorni, adesso un po' di vacanza, un po' di riappropriarsi della propria sfera privata e lavorativa? Ma all'inizio è stato davvero duro, la prima settimana è stata dura perché dopo dieci anni e mezzo di sentirti squillare il telefono non so quante migliaia di volte al giorno e poi rientrare nella normalità è stata un po' dura. Ebbè non mi dica che non l'ha cercato nessuno che non riceveva telefonato. Ma è completamente diverso, onestamente è completamente diverso. Dopodiché la vita si svolge normalmente, fra il lavoro avevo iniziato a fare un po' di attività sportiva che è sempre quello che ho sognato fare, quindi tornare in palestra, ma poi insomma le vicende del DPCM, quindi con le chiusure delle palestre. Mi ha tolto anche questo, ma prima o poi... In questo periodo siamo tutti casa lavoro, quindi... Mi sto godendo la famiglia, qualche partita a tennis, per ora nemmeno quello. E però lei, la politica, ha continuato a seguirla. Ma per carità. Mi pare ovvio, dopo dieci anni non si abbandona così e non... chiaramente magari con un approccio diverso, sicuramente. Ma non riuscirei nemmeno volendolo. E infatti non penso che succederà anche nei prossimi mesi. Senta, andiamo un po' a quella campagna elettorale, vissuta in un periodo difficile, con l'emergenza coronavirus che era ripresa dopo la pausa estiva. Ricordiamo tra l'altro che si doveva votare inizialmente a giugno, poi le elezioni slittarono in autunno. Quindi altri mesi di lavoro per lei. Che cosa non è andato per la vostra coalizione in quella campagna elettorale? Quale messaggio non è passato? Lei nell'immediatezza del risultato elettorale, ricordo molto bene, si è assunse tutta la responsabilità, esagerando sicuramente. Adesso sono passati dei mesi, quindi l'analisi un po' più lucida qual è da parte sua? La stessa. Ero abbastanza lucido un minuto dopo, lo sono ancora adesso. Quella campagna elettorale, evidentemente, c'è stata da una parte la nostra coalizione, che abbiamo fatto tantissimi errori. Dall'altro lato, invece, chi ha condotto la campagna elettorale vincendola, ha commesso meno errori, anzi forse nessuno, e alla fine è passato il messaggio. Il perché mi sono assunto la responsabilità? Perché, pur non essendo io il candidato diretto, anzi io in campagna elettorale stavo un passo indietro proprio per non oscurare la visibilità del nostro candidato, tra prendersi una grandissima persona per bene che ringraziamo anche Alfredo Mulè, ma la campagna elettorale dell'attuale sindaco è stata incentrata, tutto, su una lotta, su una guerra, ai miei dieci anni di amministrazione. E quindi annunciava un cambiamento radicale, che è ancora stenta ad arrivare, ma è presto, rispetto al modus operandi della mia attività amministrativa. Non tutta la città, il sistema elettorale lo conoscete, il 42-43% ha premiato il cambiamento, e se il 42-43% delle persone hanno voluto il cambiamento, quindi hanno eletto Matteo Ruvolo, sindaco di Ribera, ho detto sicuramente c'è un vincitore, ci deve essere uno sconvitto che non è Mulè, ma che è il sindaco. Da questo punto di vista è comprensibile, lei dice messa sul piano vecchia nuova amministrazione, io ero sicuramente l'attore principale. Però le chiedo, quella era una coalizione forte, quella che sosteneva Mulè, fatta di tante liste al Consiglio Comunale, di esponenti politici di spicco, quindi da questo punto di vista la responsabilità a questo punto va condivisa poi. Al di là del confronto vecchio, nuovo, cambiamento, poi entra in gioco anche... Non so cosa pensano i miei ex alleati, o comunque i miei alleati della campagna elettorale. Dire ho perso in politica è difficile, sono stato sconfitto, non lo dice quasi nessuno, in ogni campagna elettorale c'è sempre un dato rispetto al dato del 2003... I numeri diventano relativi. Così, così come il bilancio, no? Si interpretano. In realtà non c'è niente di male, da una sconfitta viene fuori una vittoria, da una vittoria una sconfitta, c'è la legge della politica, la legge del cambiamento, ci sta, è normale... La scelta del candidato... Quel candidato è stato condiviso, onestamente, è stato condiviso su, ormai diciamo è storia, su un'intuizione di Totò Cascio e del senatore Ruvolo, condivisa anche da me, onestamente, immediatamente dopo, dal Roberto Di Mauro, dagli amici della Lega, ma fu quella l'intuizione per investire su una persona che nulla aveva a che fare con la mia amministrazione, di un'estrazione completamente diversa rispetto alla mia, perché abbiamo scelto forse il meglio del mondo dell'agricoltura, con il senato che Ribera vive prettamente di agricoltura. Una persona senza scheletri nell'armadio, un grandissimo lavoratore, una persona per bene, che onestamente tutto questo nella campagna elettorale non è venuto fuori. Non è che il sindaco Cascio comunque l'ha oscurato un po' anche in campagna elettorale? No, non credo, e se l'ho fatto chiedo scusa, no, non credo. Ma dico involontariamente, come diceva lei poco fa, alla fine si parlava di quello, cosa si è fatto nei dieci anni e dall'altro lato... Sono stati abili, pur non avendo titolo. Vi hanno portato su questo terreno. Sì, ma è stata una loro scelta vincente. E sottolineo, pur non avendo titolo, perché? Perché mentre Matteo Rugolo, onestamente, è stato sempre da dieci anni all'opposizione della mia amministrazione comunale, lui era vice sindaco indicato di Mangiacavallo, esempio nel 2015, quando ho vinto io. Molti altri che inneggiavano al cambiamento fino a pochi mesi prima avevano governato con me per nove anni. Quello è un classico in politica, no? Altri se ne erano andati un anno prima, ma erano stati eletti nelle mie liste. Quindi mentre da parte di Matteo Rugolo era tutto sommato legittimo inneggiare al cambiamento, da parte di altri che inneggiavano al cambiamento, ma anche questo non siamo stati capaci a far evidenziare la realtà dei fatti. C'è uno che ha governato con me nove anni, non può dire gli ultimi sei mesi noi vogliamo il cambiamento, perché abbiamo, e non mi riferisco a qualcuno in particolare, perché erano in tanti, abbiamo condiviso tutto, sia le vittorie, sia le sconfitte, sia i successi, gli insuccessi, le belle figure, le brutte figure. Cioè quando si amministra, si amministra insieme. E poi invece è successo quello che è successo, che loro hanno rappresentato il nuovo, il cambiamento, e noi no. La vittima è stata purtroppo Alfredo Moulet, che devo dire ha fatto una campagna elettorale dignitosa, forse serviva un po' più di verve, un po' più di grinta, anche da parte del nostro candidato, che in realtà non c'era perché, Alfredo è così, cioè non potevamo chiedere qualcosa di più di una persona pacata, perché è stato scelto, noi abbiamo scelto Alfredo perché è una persona pacata, perché è una persona moderata, e in campagna elettorale ha dimostrato quello che è, cioè una persona pacata, una persona moderata. La città, legittimamente, per carità, ha preferito altre, ed è giusto che per questi cinque anni, spero senza lagnarsi, sempre con la vecchia amministrazione, perché la campagna elettorale è ben finita. Sì, però, come anticipa bene lei, finita la campagna elettorale, i primi mesi di insediamento, inevitabilmente finiscono con l'essere quelli del confronto. Qua si è partiti alla grande, a ribere in queste settimane, nel senso che una sua dichiarazione, almeno così è stato detto dal sindaco in carica, in campagna elettorale, ossia quella relativa al fatto che la nuova amministrazione, qualunque fosse stata, si sarebbe ritrovata una sorta di tesoretto. In realtà, ha detto il sindaco Ruvolo, non ho trovato niente, non c'è una lira, siamo con l'euro, ma torniamo alla vecchia lira. Siamo qua proprio per chiarire. Premesso che io avrei preferito così come... Intanto le chiedo, lei ha detto questo in campagna elettorale, lei ha detto che l'amministrazione si sarebbe ritrovata con 11 milioni di euro. Me lo faccia dire, perché sono pronto a ribadirlo ciò che ho detto. Dicevo, per chiarire questa vicenda, io vi ringrazio. Sarebbe stata opportuna l'intuizione che ha avuto circa una settimana fa il sindaco di Ribera Ruvolo, perché ha detto pubblicamente, a questo punto facciamo un confronto, e i suoi maggiori sostenitori immediatamente hanno detto facciamo un confronto. Io ho accettato il confronto che sarebbe stata una cosa bella, democratica, invece evidentemente qualcuno poi lo ha consigliato, che un confronto non era per niente opportuno, poteva essere anche un piccolo autogol per l'attuale sindaco e ha preferito fare una sua conferenza stampa, a mio modo di vedere con una caduta di stile, invitando anche i dirigenti e i segretari. Io e nessun altro sindaco abbiamo mai fatto delle conferenze stampa di natura politica scomodando e mettendo in imbarazzo. Gli uffici sono chiamati in causa a ratificare numeri. Nei consigli comunali. Gli uffici hanno il diritto e il dovere di intervenire nelle sedi opportune nei consigli comunali. Le conferenze stampa sono invece della politica. Andiamo alla questione. Questi 11 milioni di euro ci sono o non ci sono? No. Dicevo che, così ci arriviamo subito, Ruvolo e i suoi amici, le vicende del bilancio del comune, li conoscono da tempo. Alcuni, perché come dicevo poco fa, per tanti anni hanno amministrato assieme a me, anche con deleghe al bilancio, e quindi conoscono. Altri, perché sono stati oppositori, lei ne è testimone, quante conferenze stampa hanno fatto durante il mio mandato. Spulciavano le pieghe del mio bilancio, lo spiegavano, cosa io potevo fare. E lì era al contrario. Loro dicevano che c'erano un sacco di soldi, che io comunque non assumevo gli LSU, io invece dicevo che il comune è un comune in difficoltà, e lo ribadisco. È un comune in difficoltà, così come tutti gli altri comuni di quest'epoca. Così, come sto dicendo che è un comune in difficoltà, sui parchi al ribadisco, ho detto che il 2019 si è concluso con un avanzo di amministrazione di 11 milioni e 390. E questo documento non è mio. Questo documento è un documento sottoscritto dal sindaco e dalla sua giunta che dicono ci sono 11 milioni e 390 mila euro di avanzo di amministrazione. Sono tutti utilizzabili? No. Perché molte somme servono a garanzia dei crediti che il comune ha, che quindi deve coprire gli eventuali crediti non esigibili. È una voce che si chiama fonti dei crediti di dubbia esigibilità, e sono circa 7 milioni. Altre somme servono per i possibili debiti fuori bilancio, e poi ci sono delle somme disponibili, circa 3 milioni e mezzo, che sono delle somme vincolate. E questa cosa vincolata, forse nemmeno il sindaco ha saputo spiegarlo bene, perché Maggio lo conosca, vincolate che significa? Non che non si possono spendere. Il sindaco li scriverà in bilancio. Si devono spendere per una cosa ben precisa. Si devono spendere con dei vincoli. Se sono entrate e sono arrivate al comune soldi per infrastrutture, si devono spendere parte di quei soldi per infrastrutture. Se parte di quei soldi sono entrate per le politiche sociali, bisogna spenderle per le politiche sociali. Ma sono soldi applicabili e applicati al bilancio. Ma le do un altro dato. Il comune del Ribera oggi, mentre registriamo il 26 gennaio, il compleanno di mio fratello, facciamo gli auguri, ha una cassa disponibile di 6 milioni e mezzo. Non è che sono soldi che domani il sindaco può dare a chi che sia. Però avere una cassa attiva, e in provincia del Regento siamo intanto due o tre i comuni con la cassa attiva, sarebbe il conto corrente della sua famiglia. È il primo indicatore dello Stato di salute di ogni ente. Se c'è un controllo della Corte dei Conti, del Revisore dei Conti, la prima cosa che guardano per guardare, scusate, per verificare lo stato di salute delle casse, delle finanze, dell'economia, del comune, guardano la cassa, il conto corrente. Tutti gli altri comuni lavorano con il fido, che per un ente si chiama anticipazione di cassa. Comune di Sciacca. Nonostante abbia il ragioniere Carlino che forse è il più bravo della provincia del Regento, comunque tra i più bravi. e non voglio dare giudizi sull'amministrazione comunale, chiaramente. Nonostante gli uffici lavorano incessantemente, da sempre lavora con un'anticipazione di cassa di 2-3 milioni, che sono soldi che preleva dalla cassa perché non ha e paga anche gli interessi. Senta, la fermo un attimo. Per concludere. Il sindaco Ruvolo dice una cosa anche. Sì, vero è che ufficialmente questi 11 milioni ci sono perché in parte residui passivi di vecchi, debbi, crediti che non difficilmente esigibili, in parte vincolati. La sostanza è che questi soldi sono sulla carta e nella realtà non ho niente. Se questi soldi potevano essere... È vero quello che ha detto Carmelo Pascio e tecnicamente in campagna elettorale è vero anche quello che dice il sindaco Ruvolo. Se questi soldi fossero stati spendibili li avrei spesi io. Ecco. È chiaro. Cioè, se sono dei soldi che il comune ha è perché una parte non li può spendere e nemmeno io li ho spesi. Però da qui a far passare il messaggio non posso fare niente perché il comune è indebitato, non posso fare perché chi va al comune per qualsiasi cosa sta passando il messaggio anche con le promesse e con gli impegni assunti. Gli LSU non hanno votato per noi. Noi abbiamo 46 LSU perché non siamo stati in condizioni giuridicamente più che economicamente giuridicamente di poterlo stabilizzare. C'è una vicenda di norma che non c'è. Hanno votato per altri. Non hanno voluto fare nemmeno la riunione in campagna elettorale con noi perché hanno fatto una scelta ben precisa di gruppo di votare per altri. Evidentemente altri hanno dato le rassicurazioni. oggi non si può dire non lo posso fare perché quando qualcuno si candida conosce le casse del comune. Tutti lo conoscevano. Fare la promessa a inneggiare al cambiamento e poi dire ma sai io non sapevo le condizioni del comune. No. Quindi qual è la realtà? Il comune di Ribera è un comune sano e tra due tre comuni della provincia agrigente economicamente sano. È un comune ricco? No. Mi fa specie una cosa però. Ha detto in realtà anche che è un comune che negli anni dovrà risanare una situazione di debiti fuori bilancio di altre situazioni. Io le faccio il mio esempio spero di non perdere il filo. Quando io sono diventato sindaco ho ereditato dalla precedente amministrazione anche da quella passata dove il ruolo era assessore una vicenda denominata PIP. Il comune ha espropriato dei terreni e li ha pagati allora a 5 mila lire o 5 euro non ricordo. dopo tanti anni gli ex proprietari hanno fatto causa al solito hanno vinto da 5 euro noi li abbiamo pagati a 25 euro sono stati milioni di euro che il comune ha sborsato per quei debiti. Erano prevedibili? No. Li abbiamo pagati? È certo che li abbiamo pagati. Se il giudice in Cassazione ha dato ragione ai proprietari abbiamo dovuto pagare e quindi che la mia amministrazione abbia prodotto dei debiti fuori bilancio è normale. io li ho ereditati ne ho lasciati altri anche il ruolo farà dei debiti le pagherà il suo successore. Lei non si aspettava questo approccio non si aspettava subito questa sorta di confronto e di rimpallo alla precedente amministrazione quindi? Ma glielo spiego qual è la discrezia di questo ragionamento. Se da un lato diciamo si pone l'alibi il sindaco il ruolo non posso fare niente perché non ho soldi il primo atto che ha fatto ha nominato un consulente esterno non di Ribera come se Ribera non ci fossero professionisti a pagamento io me lo sognato Lo ha detto però che sono cifre irrisorie io me lo sono sognato io viaggiavo con la mia macchina io mangiavo panini io non ho fatto mai una missione a Palermo in un ristorante non ho portato mai una fattura non ho fatto per dieci anni perché sapevo quali erano le casse comunali il consulente esterno era Carmelo Burgio e veniva gratuitamente e lo ringrazio pubblicamente immediatamente a quattro persone quattro funzionari del comune li ha promossi in posizioni organizzative aumentando lo stipendio tredici dipendenti del comune Ribera ex contrattisti non capisco perché tredici e non tutti gli altri ha aumentato le ore da 24 a 36 ore ha fatto un bando per le assistenti sociali addirittura nonostante lui dice che la Ribera Ambiente sia interpretata sembra che stiano facendo un bando per cercare un direttore generale che costerà una cifra si può dire questo è nell'ottica di un rilancio di una riorganizzazione necessaria al macchina del comune se conosco bene le cose dei fatti i corsi e ricorsi storici della nostra città credo che sia sarà abbastanza amato dai dipendenti e dalla città le dico se ha potuto fare questo con il parere positivo dei dirigenti vuol dire che l'ente è sano non si possono promuovere persone se l'avessi fatto io l'opposizione lui a capo avrebbe parlato di prebende queste sono prebende io dico che ha fatto bene a promuovere quattro funzionari a posizione organizzativa aumentando lo stipendio che ha aumentato le ore a tredici dipendenti comunali ha fatto bene che ha assunto le assistenti sociali ha fatto bene che hanno assunto sette operatori ecologici a tempo determinato però non si possono fare queste operazioni e poi dire non ho una lira questa è la testimonianza che il comune sa ma poi si può dire il comune di Ribera si trova in questo stato è tutta colpa di Carmelo Pace però non dire però da Carmelo Pace e quindi dalla mia amministrazione ho ereditato il progetto lui dice che sta portando avanti un progetto sul palazzo municipale sulla scuola CRISP sono finanziamenti miei questo è normale sta continuando il suo lavoro mancherebbe altro se demolisse tutto questo i tredici dipendenti che ha aumentato le ore i soldi non sono del comune i soldi paga questi tredici dipendenti sono dell'home che è il premio cioè dell'Imbes che non solo con questi soldi assistiamo cento e più anziani e quindi cento e più lavoratori ma possiamo permetterci pure di aumentare le ore a queste persone e le dico che quando noi abbiamo portato questa delibera l'opposizione perché c'era un parere contrario dei revisori l'abbiamo portato in consiglio comunale l'opposizione ha votato contro cioè oggi quelli che hanno votato contro senta lei lo sa come va è normale stanno utilizzando quelle somme per pagare tredici persone aumentare lo stipendio ma se tu dici che il comune di Ribera si trova in difficoltà perché ha ereditato dei danni devi dire pure che ci sono dei finanziamenti che ti ha lasciato anche la vecchia amministrazione e devo dire una cosa sui pareri sui non pareri le ho citato l'homicare premium col parere contrario del revisore ne potrei citare tanti il sindaco chiunque esso sia di Ribera di Sciacca di Milano se vuole fare bene il sindaco deve sapersi assumere la responsabilità andare oltre il parere i pareri contano per carità fare atti legali prima di ogni cosa però il sindaco e il sindaco deve assumere responsabilità andare oltre altrimenti ad amministrare lasciamo il ragioniere capo o lasciamo i revisori non possiamo dire c'è il parere contrario del ragioniere c'è il parere contrario del revisore io non lo posso fare altrimenti il sindaco lo facciamo fare al ragioniere Gallo o al ragioniere Carlino noi siamo lì per assumerci giornalmente a proposito di questioni che hanno fatto discutere c'è la vicenda Ribera Ambiente Ribera Ambiente è la società partecipata del comune di Ribera che si occupa della gestione dei rifiuti fu una scelta ben precisa all'epoca la vostra me ne assumo la responsabilità una scelta lungimirante rispetto ad altri comuni che ad esempio scelsero l'affidamento ai privati o una forma di gestione diretta non so come il sindaco Ruvolo dice la situazione però economicamente non va bene nel senso che è una società che purtroppo ha una situazione di bilancio non positiva lei è di sciacca? no aspetti mi faccio concludere le chiedevo Ribera Ambiente qualche cosa che non è andata c'è stata anche durante la sua amministrazione io ricordo ad esempio che c'è stata l'estromissione dell'amministratore un errore della società quindi diciamo qualcosa di non positivo c'è stato e però le chiedo anche qui la situazione economica è grave cioè i conti sono in rosso non va a questa società com'è la vicenda? è stata una scelta lungimirante la mia domanda provocatoria lei di sciacca non perché io ce l'abbia con la ditta esterna che ha vinto lei non mi faccia i confronti con sciacca perché altrimenti io poi mi ritrovo l'amministrazione di sciacca che giustamente mi dirà non mi riferivo alle scelte anche perché questa scelta non l'ha fatta nemmeno questa amministrazione ma la precedente amministrazione che si dice essere a me amica ma è amica anche questa amministrazione attuale della dottoressa Valente con Fabrizio c'è un rapporto particolare amicale che va oltre la politica in tutte le realtà dove è stato affidato il servizio esterno lei dicevo lei di sciacca purtroppo i costi sono aumentati in maniera esponenziale ma per la vicenda degli impianti ci stavo arrivando e mi pare che è stata una polemica tutta saccenza il fatto che si è dovuto aumentare la tari di non so quanti milioni e quant'altro tra parentesi obbligati i costi sono quelli torniamo alla ribera ambiente è una società del comune dove non ci sono utili per nessuno ci sono dei costi la ribera ambiente deve sostenere quei costi e ora arriviamo ai costi nel 2018 noi pagavamo di umido 75 euro a tonnellata e li conferivamo in un nostro impianto a sciacca nel 2020 quindi si ricordi 75 euro non nel 1918 nel 2018 nel 2020 dopo due anni pagavamo l'umido a 250 euro in impianti a Catania quindi oltre a moltiplicare per 4 quasi il costo del conferimento i costi anche di trasporto l'indifferenziata l'RSU classica noi conferivamo a sciacca in un nostro impianto a 90 euro quindi a 15 minuti eravamo qua adesso nel 2020 io parlo del 2020 o del 2021 ancora non conosco le tariffe conferivamo a 200 euro a Trapani per poi essere lavorata ed essere smistata a Lentini con costi di trasporto e di conferimento questi costi chi le deve sostenere la libera ambiente sono costi prevedibili no perché non è che sceglievamo noi andare a Catania o andare a Trapani con ordinanze del presidente della regione si conferisce a Catania a questo prezzo che se questo l'avesse deciso qualsiasi sindaco di qualsiasi città tu vai a conferire i rifiuti lì in quell'impianto di privati andremo a finire in galera allora la realtà qual è? C'era anche un discorso del nolo dei mezzi il problema non è il libera ambiente lei dice l'aumento dei costi è stato sia nella società privata sia nella società pubblica il presidente Musumeci che diciamo in un primo momento mi aveva impressionato anche positivamente per una persona integeri una persona equilibrata adesso molto meno devo dire soprattutto le ultime vicende della zona rossa sulla vicenda sanitaria sulla vicenda sanitaria ma lì non si è mosso un dito cioè noi abbiamo come? abbiamo gli impianti di proprietà nostri e ce li abbiamo chiusi e ci babbiano così gli ascoltatori lo capiscono e ci babbiano da 4-5 anni a non finanziare i nostri impianti pubblici tra l'altro impianti pubblici pubblici obbligandoci a conferire in impianti privati io non voglio dire quello che c'è dietro questo non sta a me dirlo però è la regione che non ha mai investito su questi impianti pubblici questo non sta a me dirlo cosa c'è dietro un impianto pubblico e invece cosa c'è dietro un impianto privato e la regione non fa niente e obbliga i comuni e quindi i cittadini a pagare 4 volte in più per obbligarci ad andare in un impianto privato questi costi li sostiene in prima battuta la libera ambiente con fondi che non aveva previsto nel bilancio è chiaro perché poi le tariffe aumentano cammin facendo e immediatamente dopo sono costi che sosterranno i comuni senta lei come è che non l'ha aumentata la taria in questi anni se i costi sono aumentati in un certo da ora non solo non l'ha aumentata così il cittadino lo sa non solo non l'ha aumentata a ottobre prima di andare via abbiamo approvato un atto per sgravare tutti i commercianti gli esercenti le partite IVA di Ribera della della totalità dell'atari 2020 per il 2020 gli esercenti i negozi le pizzerie i bar i ristoranti non pagheranno l'atari perché perché un amministratore deve assumersi le responsabilità e però le potrei dire facile da parte sua sapeva che non poteva più candidarsi non lo mento io come inter prossimo sindaco sono stato sindaco dieci anni e mezzo sono stato obbligato a emettere l'imo l'addizione alle Iper non me ne vergogno ma quando non sono stato obbligato e ho potuto farlo e ho potuto scegliere ho scelto di non farlo il sindaco Ruggolo potrebbe non aumentare l'atari quindi a suo avviso per i prossimi anni cosa che lui invece ha prospettato a fronte di questa situazione che comunque c'è l'ha riconosciuta lo stesso il 31 dicembre i consiglieri comunali sono stati chiamati a votare un atto per aumentare l'atari in tre esercizi 2021 2022 2023 o 2020 2021 e 2022 adesso non lo so non ero sindaco di circa 600 mila euro 200 mila euro all'anno non erano obbligati perché proprio per il 2020 c'erano tante di quelle normative che il segretario sa e il ragioniere capo sa che dava una serie di deroghe per le vicende covid a tutti i comuni per i mancati introiti da parte dei cittadini e per i maggiori costi che si sono dovuti sostenere ma questo non è un rinviare alla fine una misura che comunque devo adottare dei soldi comunque la situazione di libero ambiente va sanata prima di voi soldi che anziché mi riferisco a quella vicenda che anziché chiederle ai cittadini e sono ancora in tempo per farlo lo sto dicendo perché ancora il sindaco è in tempo per farlo prima che emetta le bollette che si possono chiedere invece alla regione perché ci sono delle normative che aiutano i comuni per i mancati introiti e per i maggiori costi relativamente al 2020 per le vicende covid delegati al settore la situazione comunque di conti da ripianare da dover pagare prima o poi c'è per carità e magari sarà costretto per carità sarà costretto aumentare la Tari ripeto sono scelte ci sono cose in cui non si può scegliere ci sono cose invece in cui la politica può scegliere ma deve scegliere autonomamente assumendosi delle responsabilità se non siamo però da questo confronto altrimenti è grazioso ma lascia poi il tempo che trova invece le chiedo di fare il punto anche lei su una delle vicende che l'hanno tormentata per anni non le hanno fatto dormire sonni tranquilli sin dalla demolizione di quelle palazzine evacuare le famiglie cioè quella è la vicenda che ha accompagnato ben due mandati di Carmelo Pascio per tutto il secondo chiaramente che effettore fa passare da quelle zone e vedere che insomma seppur lentamente perché ultimamente sono stati lamentati dei ritardi da parte della ditta però le palazzine stanno venendo su non vedo l'ora non vedo l'ora perché quella è una vicenda tutta mia è guai chi me la tocca è una vicenda che mi ha visto partecipe artefice all'inizio anche carnefice perché con un mio atto ho sgomberato 60 famiglie è stato pesante mi ha visto incatenato davanti al palazzo della regione mi ha visto trovare finanziamenti alle due di notte a Catania il primo finanziamento col governo Lombardo mi ha visto partecipare non so quante riunioni il bando se vi ricordate il record delle lungaggini quante riunioni e che mi ha visto assumermi delle responsabilità se si ricorda noi per sette anni abbiamo dato un contributo sistematicamente di 250 euro al mese e sistematicamente tutti i mesi avevamo quella delibera pronta con un parere negativo negativo del regioniere e io con tutti gli assessori che in sette anni si sono succeduti della prima mia esperienza e anche della seconda li abbiamo firmati col parere contrario senta non era meglio farsi dare questi soldi dalla regione per intero questa cifra come è avvenuto anche recentemente anche lì devo ritornare sul sindaco a ruolo ha inneggiato dicendo spero di spiegarlo in termini brevi adesso ci dà 50 euro la regione premesso che per i cittadini non è cambiato niente 250 euro ricevevano per le casse comunali ricevevano 208 euro dalla regione e 42 euro da parte del comune che sommato per 60 famiglie per 12 mesi per 7 anni sono tanti l'attuale l'attuale sindaco ha protetto la sua firma non voleva firmare l'atto con il parere contrario è andato dalla regione e la regione gli ha dato i 42 euro in più che sono 2000 euro al mese per i 7 mesi che rimangono sono 14.000 euro che per il comune di Ribeira le assicuro non sono nulla però non è una capacità questa di farsi riconoscere qualcosa dalla regione certo evidentemente avrebbe potuto farlo anche lei la capacità il bando si è chiuso ora perché i soldi che hanno preso sono nel finanziamento e con il ribasso d'asta oggi si sa quanto è il ribasso d'asta oggi si sono quali sono le varianti perché oltre al ribasso poi le ditte chiedono le varianti quindi non è che sono solo i soldi con cui si sono apportati poi hanno fatto le varianti perché poi hanno fatto il cappotto che non era previsto poi tante cose oggi si sa quali sono le somme che rimangono ed è sicuramente un'opera meritoria quello di aver recuperato 14.000 euro dal primo di ottobre fino a quando entreranno credo marzo aprile maggio credo che si vada un po' oltre sarebbe almeno così io onestamente per i lavori che vedo penso che dopo l'estate entreranno tutti a casa però ripeto non sono il direttore dei lavori per quello che vedo non saranno 14.000 euro per il comune avrà risparmiato 20.000 euro ed è comunque un'azione meritoria l'azione meritoria però doveva essere un'altra oltre a salvaguardare la propria firma e quindi trovare 14.000 euro per sé considerato che la regione ci ha dato ragione le somme per i cittadini non dovevano essere 208 ma 250 ed è ancora in tempo per farlo il sindaco andare dalla regione e farsi dare indietro 250.000 euro che sono tutti i soldi che il comune ha sborsato perché il comune non è che è cambiato il comune di Ribera è comune di Ribera fino al 5 ottobre quando ho amministrato io rimane comune di Ribera anche dopo che è amministrato da Ruvalo quindi se questi 250.000 euro che noi abbiamo anticipato rientrano nelle nostre casse non è che fa un favore a me fa un favore a se stesso sicuramente visto che adesso amministra lui e al comune di Ribera dalle case popolari passiamo a un'altra vicenda lei ne faceva un anno poco fa parlando di musumeci la gestione del covid la gestione del covid ha segnato gli ultimi mesi il suo mandato cioè lei era lì lì pronto a fare le valigie e invece si è trovato questo tsunami al pari di tanti altri sindaci al pari di di tutti i cittadini lei è stato particolarmente attivo noi ricordiamo i suoi video diffusi sistematicamente per richiamare i suoi concittadini soprattutto nella scorsa primavera che cosa è stato gestire questo momento inaspettato che ha un po' stravolto le vite di tutti mi sono sentito uomo l'esperienza più intensa è più forte della mia vita non dei dieci anni della mia vita perché c'è cascata addosso non c'era nessuna esperienza pregressa e noi avevamo l'incubo dei contagi eravamo in lockdown le persone non in zona rossa in lockdown non uscivano di casa non sapevano cosa mangiare c'era l'incubo delle persone che venivano da fuori io ricevevo telefonate dovevo dare una soluzione a qualsiasi telefonata perché rientrava la signora da Milano e si era affacciata alla porta piuttosto che il signore non aveva nulla da mangiare io ricordo che Conte annunciò un sabato sera che dava ai contributi il bonus alimenti lo annunciò il sabato sera facemmo una riunione la domenica mattina con Leonardo Misuraca abbiamo fatto bando abbiamo trovato supermercati il mercoledì se voi vi ricordate sabato l'annuncia Conte in tv il mercoledì le persone hanno ricevuto a casa il bonus alimenti dico questo per dire gli aiuti degli effitti che abbiamo dato agli esercenti chiusi ma un'esperienza fortissima che ho vissuto 24 ore al giorno tra la paura e la consapevolezza che da una mia decisione se vi ricordate poi ho deciso pure quello dell'ordine alfabetico da una mia decisione lei è andato tra l'altro uno dei pochi ad andare oltre le restrizioni già parlavo dell'assunzione di responsabilità quando feci chiuso tutto quando feci questa adesso è storia e cito anche delle persone che poi visti ora i numeri di allora ma guarda io in nove mesi ho chiuso la mia esperienza con dieci contagi ora siamo credo adesso purtroppo siamo a 230 solo che sappiamo non è un merito sono stato fortunato nel senso che adesso tutti siamo più preparati me lo faccia ricordare quando feci quella goliardica ordinanza dell'ordine alfabetico sì il Rai 1 deve sapere che mi chiamò il prefetto Dario Caputo premesso che Leonardo Misuraca dopo che successero le prime il mio segretario le prime scaramucce su Facebook ma sa dobbiamo rivedere l'ordinanza e tu guarda io ho fatto un'ordinanza non torno indietro l'ho fatto perché sono convinto il momento è questo mi chiamò il prefetto e mi disse non è quello attuale Caputo ma ho visto l'ordinanza mi faccia capire sua eccellenza io ho fatto l'ordinanza sto disciplinando l'accesso ai supermercati e ha messo in dubbio sua eccellenza se lei mi fa due righe cioè io prendo spunto da quello che lei mi scriverà e io revocherò l'ordinanza ci sentiamo e non è arrivato niente mi chiamarono dalla protezione civile regionale perché le ordinanze dovevano essere concordate se vi ricordate sì anche per verificare ma guardate io l'ordinanza ve l'ho mandata se io ve la mando e voi non fate nessuna opposizione ufficialmente io la porto avanti per dire che cosa oggi le scuole si aprono si chiudono si aprono alle 5 si chiudono alle 6 si apre il mercato poi si chiude viceversa il sindaco il sindaco non ruvolo non valente il sindaco è chiamato per prendere decisioni ma è chiamato il prefetto l'ispettore sanitario il sindaco deve assumersi delle responsabilità non deve rubare per carità ma deve assumersi le responsabilità a salvaguardia dell'ente e dei cittadini e andare avanti tentennare fare il donabombio soprattutto in una fase così difficile non ci si poteva permettere bisogna essere determinati poi altri sindaci seguirono diverse sue ordinanze di chiusura poi progressiva di distributori di attività è stato bravo Leonardo Misuraca perché ha secondato i miei desideri i miei intuiti il comune di Ribera poi Caputo mi ringraziò no il ringraziò non è vero mi ha fatto un encomio pubblico dicendo che il comune di Ribera era stato fra quei comuni che si era organizzato che si era organizzato un po' meglio erano dei momenti veramente difficili oggi li racconto come come un'esperienza positiva e che mi ha formato come uomo mi ha formato come uomo perché ho toccato con mano le vere esigenze ricordo quando le prime persone due coniugi malati di covid portati in ospedale che dovevano tornare a casa i figli non li volevano andare a prendere le ambulanze non ci volevano andare noi dovevamo organizzarci come andarle a prendere da sciacca e come dare da mangiare a queste persone e devo ringraziare onestamente i volontari della protezione civile di Ribera il grande lavoro che hanno fatto portavano il pane portavano la spesa in tutti i comuni i bonus alimenti direttamente a casa senza farli uscire da casa una solidarietà generale senta covid e ospedale di Ribera a maggio giugno ricordo che ci fu la famosa riunione a Palermo nella quale partecipò lei se non ricordo male nella quale si definì insomma quello che dovrebbe essere l'assetto di questi ospedali e come questi ospedali avrebbero dovuto fronteggiare ma lei vuole sapere la verità o la verità che si può sapere no io voglio sapere una cosa cosa ne pensa il fatto che siamo a fine gennaio e ancora aspettiamo questa attivazione dei posti letto all'ospedale di Ribera allora la prima conferenza che lei faceva riferimento se non ricordo male giugno fu definito tutto credo stiamo parlando nel mese di aprile sì poi a giugno diciamo arrivò la decisione in una conferenza la presenza dell'assessore del prefetto Caputo dei vertici dell'aspe di cinque sindaci i sindaci dei comuni dove risiedono gli ospedali e si decise ospie dal covid motivandolo dovevano essere sciacca e agrigento perché già c'erano le strutture c'erano le rianimazioni c'erano i medici c'era tutto cioè continuare con la formula degli ospedali misti sì individuando in sciacca e agrigento motivando i punti di riferimento e devo dire che tutti accettammo eravamo in piena emergenza accettammo poi le vicende della politica hanno fatto qualcosa in più gli ospedali misti si infettano non si infettano e poi l'assessore decise che invece l'unico ospedale covid della provincia agrigento era individuato nell'ospedale di Ribera giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre a gennaio a Ribera non c'è più la Mogeri ci sono solo 14 posti a Ribera non c'è più la chirurgia perché è stata chiusa a Ribera non c'è più il pronto soccorso perché è stato trasformato in punto non so in che cosa sono forse entrati alcuni macchinari per il covid e per la rianimazione non c'è una persona in realtà si sta dando seguito si sta dando seguito a quanto era stato deciso a giugno cioè l'ospedale di Ribera diventerà per il momento un ospedale covid ma poi il punto di riferimento per le malattie effettive attualmente non è niente all'ospedale di Ribera stanno lavorando per l'attivazione siamo in ritardo rispetto ai tempi non vorrei che passasse il messaggio e quello l'ho detto io io ho dei concittadini però non possiamo dire che si sta chiudendo ho dei concittadini che si sta chiudendo anche delle persone che sul mio stesso ambiente di lavoro che sono stati ricoverati ma sono stati ricoverati a sciacca trovando grandissima professionalità però io voglio ricordare che questo era quanto era stato deciso a giugno cioè si sta il problema è che sono passati troppi mesi sono passati inutilmente otto mesi perché sono passati otto mesi qua c'è chi dice che la responsabilità è dell'ASP chi della regione perché poi io penso sempre che la responsabilità sia perché noi politici siamo bravissimi a non dire la verità infatti ho detto vuole sapere la verità o la verità che vuole sapere a trovare macchinari basta una firma una gara un bando e si trovano macchinari poi se la ditta è seria arrivano subito se la ditta è meno seria che arriva con qualche mese di ritardo e i medici questi macchinari che sono che sono all'interno dell'ospedale di Ribera stiamo parlando di rianimazione la subintensiva ma i medici dove sono? qualcuno lei è giornalista la faccia questa domanda no l'abbiamo fatta la faccia questa domanda l'abbiamo fatta chi saranno i medici che andranno ad operare presso l'ospedale l'ospedale l'abbiamo fatta perché il problema per tutte le terapie intensive è quello dei sanitari se le dicono che stanno facendo il bando la stanno prendendo in giro perché io posso fare i dieci bandi ma se so che medici in giro non ce n'è al bando non risponderà nessuno senta però lei quella scelta quella di giugno alla quale lei partecipò se un 5 le sarebbe stato poi il futuro dell'ospedale di Ribera penso che la condivida ancora oggi posso dire una cosa forte così magari lei lo manderà nel Tg Razza ci ha ingannato Razza perché quando noi abbiamo accettato di avere l'ospedale Covid che nessuno voleva lei lo sa che nessuno voleva nessuno vuole gli infettati è inutile che ci prendiamo in giro che era una conquista e vendiamo una cosa che nessuno voleva come una conquista Razza ci disse prendetevi il Covid perché manterremo il pronto soccorso perché metteremo la pneumologia metteremo la rianimazione ci sarà la la riabilitazione cardiorespiratoria invece la riabilitazione che c'era non c'è più non c'è più la chirurgia Sulla carta questo piano rimane vedremo cosa succederà sulla carta io non l'ho visto sulla carta è rimasto se lei l'ha visto il commissario dell'Asp guardi se lei l'ha visto era seduto lì dove lei è seduto oggi e ha detto espressamente le malattie infettive la pneumologia e tutta la poi dovremo vedere quando ma questo è un altro discorso questo è un altro problema senta della gestione Covid invece attuale siamo in zona rossa forse dalla prossima settimana torneremo in zona arancione lei che idea si è fatto poco fa insomma mi pare che non abbia espresso un'opinione molto positiva è un dramma su questa decisione è un dramma economico la Sicilia è in zona rossa oggi mi piace parlare in tutta sincerità la Sicilia è in zona rossa perché ci sono delle zone non perché ci sono tanti contagi rispetto alle altre regioni ma perché altre regioni a parità di contagi o magari superiori hanno le strutture ospedaliere noi siamo alla terza ondata alla terza ondata ancora parliamo del centro Covid di Ribera citiamo Ribera ma potremmo citare la regione siciliana se giustamente si è fatta trovare impreparata alla prima ondata ingiustamente si è fatta trovare impreparata alla seconda alla terza è un disastro Musumece ha chiesto la zona rossa ci ha condannato al baratro l'economia di tanti siciliani le faccio sorridere la mia opposizione vecchia a un certo punto quando l'economia era ferma nonostante gli sforzi vedendomi che io mi barcamenavo ha chiesto il sindaco da adesso in poi loro all'opposizione deve dare l'indennità sua e quella degli assessori a tutti gli esercenti chiusi cosa che io non ho fatto onestamente non ho fatto perché io stavo lavorando stavo lavorando tantissimo l'ultima cosa che mi veniva in mente pure di dare la mia indennità oggi di questa indennità non ne sento più parlare ma la stessa difficoltà economica che c'era allora le dico che c'è adesso vedrà che se vuole la mia opinione io sono sempre stata contraria al fatto che i sindaci debbano fare i sindaci per alcuni momenti ho donato il 50% della mia indennità però ripeto al di là quando l'opposizione dice una cosa ora chi ha fermato quegli atti si trova sindaco vice sindaco è normale lo avranno dimenticato è normale adesso lo ricorda lei io non mi permetto perché è giusto che loro la loro indennità siccome lavorano non stanno rubando è giusto non lo faccio senta cosa c'è terminato questa zona rossa problemi economici gravissimi problemi economici fortunatamente il ribera dal punto di vista della produzione agricola agrumicola non è stata toccata facendo tutti gli scongiuri ma tutte le altre attività il ribera di sciacca io immagino che tantissime persone non alzeranno più la sala cinesca perché poi questi aiuti sono aiuti promessi e sono arrivati col contagocce per chi sono arrivati premesso che poi nella situazione nostra siciliana noi abbiamo avuto sempre l'arte di arrangiarsi non tutto è bianco ciò che è bianco non tutto il nero ciò che è nero e quindi i siciliani a maggior ragione hanno sofferto questa vicenda ma il dramma che lascerà il covid in sicilia oltre che chiaramente un problema dei morti che non possiamo più recuperare è un problema grave ed economico e l'aver chiesto nuovamente la zona rossa è un io ho detto su facebook è una vergogna aver chiesto la zona rossa per la nostra Sicilia ma comunque è un'ammissione di una sconfitta per la nostra per la nostra Sicilia tra l'altro se si temeva anche la situazione del contagio dobbiamo dire che all'interno della Sicilia ci sono zone che vivono il covid in questa fase in maniera completamente diversa cioè la provincia di Agrigento tutta nonostante magari alcuni comuni da Agrigento a Canicattia diciamo che rispetto ad altre zone questa zona rossa è un po' stride allora non era forse il caso di localizzare di assumere i provvedimenti solo in determinate zone no perché il problema che si è creato Musumecerrazza non è un problema di contagio è un problema sanitario e quindi vale per Sciacca ma vale anche per Milazzo e vale per Sicili non è drammatica la situazione ma quando saranno saturi auguriamoci mai gli ospedali di Sciacca e Grigento inevitabilmente non entriamo a Cantanissetta lei diceva in maniera preventiva quindi il problema di razza in Musumeci qual è? era un rischio serio di un collasso sanitario si aumentano i contagi e proporzionalmente ogni 100 contagi 10 richiedono il ricovero in ospedale e su questi 10 2 richiedono il ricovero in terapia intensiva se si moltiplicano i contagi indipendentemente se sono a Cicli o a Calascibetta comunque all'interno del nostro tessuto siciliano non abbiamo le strutture che possono ricevere tutti questi ricoveri questo è il dramma il dramma del collasso sanitario si è subito dimostrato e riversato in un dramma economico che non ha uguali io guardi tra pochi giorni compirò 50 anni io non ricordo una crisi così così difficile la gente è veramente disperata io se io che non sono più sindaco ricevo e continuo a ricevere ancora telefonate di esercenti che sono proprio disperati e che non sanno cosa fare io immagino che chiunque abbia incarichi istituzionali sia messi in condizioni veramente e ancora non abbiamo visto niente perché quando verrà meno la tutela relativa al blocco dei licenziamenti quando verrà lì e poi non voglio fare previsioni però onestamente possiamo dire una cosa che ma a queste ci arrivano pure i bambini di quinta elementare vaccino non vaccino e tutto il resto il covid così come è venuto se ne andrà sarà sei mesi sarà un anno è arrivato e se ne andrà lascerà dei danni ripeto i morti ce li ha lasciati ma i danni economici non so per quanto tempo dureranno purtroppo sì quello è quello per cui dobbiamo inviagheremo ci vogliono ben altri vaccini per quello ben altre iniezioni ma non penso che ci sia forse iniezioni di liquidità sicuramente siamo quasi in conclusione abbiamo parlato di questi primi mesi di attività di questo passaggio la domanda difficile no la domanda difficile arriva la politica cosa farà da grande non si guarda soltanto perché altrimenti è sempre un confronto tra vecchio e nuovo sindaco guardiamo oltre guardiamo all'appuntamento con le regionali è il primo credo no è comunque il più interessante diciamo siccome ho fatto un'intervista in quasi mettere quasi totale sincerità sarei disonesto a dire che non sto facendo un pensiero per una mia candidatura alle regionali c'è chi mi dice che dovevo farlo prima c'è chi mi dice che forse prima in che se cioè avrebbe dovuto non candidarsi per una seconda volta guardi Ribera siccome siamo sotto 20.000 abitanti ah poteva lei fare poteva essere fatto ripeto non hai piangere io sono abituato a guardare avanti se non mi sono candidato prima c'era un motivo avevo dato la parola d'onore a un amico che ho fatto bene a mantenere perché nella vita queste cose contano più di un'elezione più dell'indenità del parlamentare regionale e quindi quando guardo certe persone posso guardarle ancora in faccia tranquillamente sarei un bugiardo dire che non sto facendo perché lo sto facendo l'ho annunciato questi mesi quando è stato possibile ho preso i contatti con alcuni amici alcuni sindaci consiglieri comunali non soltanto della zona diciamo del collegio di Sciacca che è stato un collegio a me caro storicamente ma anche adesso un po' meno visto che c'è la zona rossa ma anche con persone esterne al collegio di Sciacca e quindi se la domanda è si sta preparando sì è vero in quale formazione politica se poi mi dice si candiderà siccome io vado anche oltre e ci arriviamo con quale lista candidarsi è un attimo basta mettere una firma trovi una lista che ti ospita e ti puoi candidare poi è chiaro che ci sono le liste che ti vogliono ospitare che sai che sono liste che non ce la farai mai e invece la lista in cui tu vorresti andare se ti vogliono e quindi questa è la fase in cui non calpestando in questi dieci anni non ha mai fatto una scelta politica netta spero di non si è sempre mantenuto tranne qualche periodo in cui ha lanciato qualche messaggio ma sono moderato ma sono moderato e però adesso arriva la scelta di campo è una scelta che sto facendo ripeto per parlare quasi sinceramente che sto facendo in questi giorni e che la voglio condividere comunque con i miei amici e quando parlo di miei amici non parlo soltanto con i miei amici di Ribera se faccio una scelta per aderire al partito non so nazionale facciamo degli esempi no non ne facciamo esempi non ne facciamo esempi a sinistra a destra a centro ne ho detto sono moderato moderato quindi centro-sinistra è giusto che quella scelta io la faccia con la condivisione non dico di tutti perché la condivisione di tutti non c'è ma almeno con la condivisione di tanti e soprattutto sapendo che hai l'appoggio di alcuni consensi perché poi Ribera è importante per carità partire bene da Ribera ma non basta ci sono altri 42 comuni c'è Agrigento c'è Sciacca c'è Palma c'è Canicattì c'è Licata insomma la provincia ma lei ha quanto manca? due anni? circa due anni due anni ha due anni di tempo per girare in lungo e in largo la provincia tra l'altro lei ha fatto anche consigliere provinciale non è che poi qualcuno fra due anni mi dica ma hai annunciato e per non sei candidato al momento non è che nella vita di sicuro mi candiderò non se avrò la certezza che sarò eletto perché certezze non ce n'è mi candiderò se ci sono le condizioni le condizioni ci sto lavorando salto nel buio no ripeto la domanda dice ma cosa sta facendo ci sto lavorando dal 7 di ottobre se mi candiderò è perché intravediamo una possibilità di rappresentare il nostro territorio altrimenti buttare 50 mila euro di campagna elettorale e fare un salto nel vuoto francamente potrei anche risparmiarmi poi come ha detto lei appena compiuto tra poco compie 50 anni ancora c'è tempo ancora c'è tempo la politica italiana tra l'altro non è una politica per giovani ancora c'è tempo premia in genere quelli più avanti no no per carità quindi se non sono questa ci saranno altre occasioni sono un fatalista comunque ritorno in politica ci sarà ritorno in politica ritorno in politica potevo anche candidarmi in consiglio comunale non l'ho fatto vabbè quella è stata una scelta precisa non lo ritengo dignitoso nel confronto dei miei amici che mi hanno sempre sostenuto ho fatto una lista è stata la prima lista nonostante la sconfitta poi della nostra compagine ma è stata la prima lista di tutto il consiglio comunale e quindi non per forza chi fa politica ho citato la mia non candidatura in consiglio comunale debba ricoprire un ruolo istituzionale si può anche operare nella politica non ricoprendo alcun ruolo istituzionale io ad esempio mi sto divertendo il lungo e largo quanto potevo permettermi in tutta la provincia di Grigento parlando di politica anche perché c'è l'assenza totale onestamente cioè quando parlo con i miei amici o quando trovo altri amici che mi presentano c'è l'assenza totale dell'interlocuzione con l'esponente politico dice ma cosa ti deve fare i posti di lavoro non ne dà più nessuno chi le promette è un falso un ipocrita non ce ne sono ma almeno condividere dei percorsi almeno la parola di conforto almeno dei consigli per chi ricopre il ruolo istituzionale almeno poterli accompagnare dall'assessorato poterli accompagnare voglio dire il minimo indispensabile il minimo indispensabile che una persona può fare lei sta vivendo serenamente perché è già proiettato verso altri obiettivi io la conosco bene sto vivendo serenamente perché sono fortunato perché si pone sempre perché si pone sempre nuovi obiettivi ho una famiglia che dal 6 di ottobre mi sta stracoccolando soprattutto soprattutto i primi giorni perché c'erano dei piccoli sbalzi d'umore e sono estremamente fortunato perché tutto quello che ho cercato di fare ringraziando Dio ringraziando la mia famiglia l'ho potuto fare se non ho fatto altro è perché non c'erano le condizioni non c'erano e ci saranno la vita ancora riserva tanto grazie grazie a Carmelo Pace grazie a voi per averci seguito appuntamento alla prossima settimana